Ciao a tutti ragazzi, io sono Orneth e benvenuti in questo nuovo video. In questo momento siamo io e Metal Sniper che stiamo sfidandoci in uno contro uno al campo alla torre. Se volete vedere la prima parte di questo video andate a fare un salto sul suo canale. Le regole sono molto facili, si parte dagli HQ opposti agli angoli del campo, ci si trova, ci si spara, senza respawn e il primo che ottiene 5 vittorie vince la sfida. In questo momento siamo 3 a 2 per Metal. Ciao a tutti. Puta Peso 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, Sì. 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 E' stato veramente di me E' stato veramente di me E' stato veramente di me Senza fucile E' stata molto combattuta E' stato un vincitore E basta ragazza E basta ragazza